Produzione in montagna, con le giuste infrastrutture si può creare sviluppo e ciò che chiedono le tante fasce tricolori intervenute al cerimoniale per i 40 anni di OMI, dalle politiche industriali la capacità di resistere allo spopolamento. L'impegno del ministro degli interni Matteo Piantedosi, saremo vicini alle eccellenze italiane e ai giovani del sud. Dobbiamo combattere lo spopolamento delle aree interne, dobbiamo fare in modo che possiamo essere a fianco di imprenditori illuminati, e intelligenti per trattenere qui i nostri giovani. Queste aziende si reggono molto sulla capacità di intelligenza, quindi di studio di intelligenza e di traduzione in innovazione dei nostri giovani, dei giovani dell'Irpinia e dei giovani del sud. Quindi il governo sicuramente starà vicino nel supportare le politiche finalizzate a trattenere i giovani al sud. È un polo della capacità ingegneristica, della capacità di coniugare la capacità di impresa a quella di abbinarvi la ricerca, che è una delle espressioni più intelligenti dell'impresa, perché significa creare i presupposti per essere sempre a passo con i tempi, dell'innovazione, della ricerca, la resilienza, cioè quindi resistere anche ai cambiamenti.